Lasciamo Bruxelles, la nostra ultima notizia, hard news, come si dice, ci spostiamo in Svezia, perché la Svezia è presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea in questo primo semestre del 2023. Oggi in Svezia si è tenuto il Consiglio informale dei ministri degli affari interni sul tavolo quella che viene definita una priorità ombra della presidenza svedese. Non è nel suo programma, ma se ne si lavorerà molto, e sto parlando del dossier migranti. Quindi le prime indicazioni, era un Consiglio informale, quindi non erano attese decisioni, ma le prime indicazioni sono quelle della necessità di rafforzare lo strumento del rimpatrio e secondo la commissaria Johansson è anche necessario utilizzare di più Frontex. All'inizio dei lavori proprio la commissaria aveva tracciato il ritratto, la fotografia della situazione attualmente nell'Unione Europea. L'ascoltiamo. Allora, qualche errore nel codice di questo servizio, lo ricopriamo a brevissimo. Comunque, come vi dicevo, la migrazione non è priorità della presidenza svedese, ma appunto c'è l'impegno a lavorarci con molta attenzione e con molta serietà, proprio perché i numeri e anche l'attenzione politica nel vecchio continente, scusatemi, è assolutamente elevata. Ricordando sempre che andiamo anche verso un anno di elezioni anche nel vecchio continente, visto che nel maggio del 2024 poi si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo e questo dossier è uno dei dossier che, almeno così raccontano i sondaggi, è tra i più sentiti a livello trasversale tra tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione Europea.